Potrebbe essere Annalisa, cantante in gara con il diluvio universale, la prossima vincitrice del festival di Sanremo 2016? Secondo l'impressione fornita dal video agli addetti ai lavori sì, il brano riesce ad esprimere tutto il talento e la potenza vocali della Scarrone, un interprete che sembra finalmente aver raggiunto la piena consapevolezza dei propri mezzi. Al termine delle sue esibizioni sul palco dell'Ariston, il pubblico le ha sempre tributato degli applausi convinti e prolungati, segno che il messaggio della sua canzone è arrivato a destinazione forte e chiaro. Bella soddisfazione per l'ex alunna di Amici di Maria De Filippi. I fan intanto ne apprezzano la voce. Hai una voce di una limpidezza disarmante e meriti la vittoria, sei sempre perfetta, ma come fai? Sono molti e numerosi quelli che la vorrebbero veder trionfare alla fine di questa giornata, anche se al momento i pronostici però non sono dello stesso avviso.